Ore di speranza per la piccola di 10 mesi in coma, coinvolta nell'esplosione nel crollo della palazzina Catania. La bimba si trova ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale Garibaldinesima. In coma farmacologico con prognosi riservato, la bambina ha riportato una frattura cranica laterale, oltre a due focolai contusivi emorragici, per i quali non è necessario un intervento chirurgico, ma soltanto controlli clinici. Il primario della rianimazione pediatrica, Giuseppe Ferlazzo, ha sottolineato però la presenza di riflessi e un movimento spontaneo dei quattro arti. L'edificio di Treppiani in via Crispi è probabilmente crollato a causa dello scoppio di una bombola di gas nella notte tra sabato e domenica, e adesso non resta che un cumulo di macerie, nelle quali è stato necessario scavare a mano per estrarre le persone. A perdere la vita un'anziana di 85 anni, Agata Strano, che viveva da sola nel suo appartamento al primo piano, ma lo scoppio ha causato anche altri feriti, due in maniera leggera, ricoverati all'ospedale di Lentini, in provincia di Siracusa, uno gravemente ustionato e ricoverato al civico di Palermo. Il capo squadra dei pompieri, Salvatore Giudice, che ha tirato fuori dai cumuli di mattoni e calcinacci il settantenne, ha raccontato che l'uomo si è salvato miracolosamente perché protetto da un frigorifero. Il primo cittadino Enzo Bianco ha accertato che i tecnici comunali abbiano verificato la presenza di eventuali lesioni nei fabbricati vicini, sia in via Crispi, sia nella parallela via Colaianni.